E' questa grossa opportunità da Murelli a Bertoni che tira, para di Piracini e Berti manda in calcio d'angolo. Con le immagini siamo al secondo tempo, fallo di mano di sola, ci tiro all'azione da lontano, gran botta di fan al volo. ... che è in vione di Vignola, in cornata di Elkier e della deviazione di Pellicanò. Pellicanò è bravissimo, l'Atalanta reclama il vigore al... Subito la Roma al contrattacco, Bruno Conti si porta in avanti, respinto... Facciamo grazie, non vi facciamo grazie invece di queste azioni, Lorenzo ha debuttato bene. Virdis pallonetto e tiro a volo, vola Pellicanò. ...como con Viondo, bene Pellicanò. Nell'arriere stupenda rovesciata di Tita e proletta di Pellicanò. Tutcara replica con Tita, la punizione del brasiliano è neutralizzata da Pellicanò. Rossi, il tuffo bellissimo di Viali, la deviazione di Pellicanò. Tuffo da festa prepasquale di Pellicanò. Ed ecco il portiere rigorista al microfono. Il 35enne Pellicanò, sostituto di Landucci, deve intervenire solo sulla punizione... La sicurezza di Comi Libero e di Marchigiani fra i pali, oltre alla tempra di Rossi... Agostini e Traini, poi al 33esimo... Grazie a tutti. Grazie a tutti.